Nel triangolo il mistero. Nel triangolo il mistero attraverso Mario del Giglio domanda quindi ognuno di noi deve accettare la parte ma anche bene interpretarla? Risposta. Deve mettersi nella condizione di applicarsi per migliorare la propria interpretazione. E qui il punto focale della vita spirituale. Rifletteteci. La recita avrà il miglior successo quando tutti saremo in grado di perfezionare le nostre parti. Voglio ora aprire un discorso che poi si potrà approfondire riguardo eventi che accadono sulla terra. Siamo sempre pronti a criticare e dove Dio come può permettere queste cose? Ebbene il concetto di spirale ci aiuta a comprendere che tutto già esiste. Tutto è in continua evoluzione ma al tempo stesso è già esistente prima ancora che si abbia la capacità di comprendere quanto sia grande l'esistente. Questo discorso deve essere prima compreso, assimilato e successivamente messo in pratica e fatto proprio fino a diventare patrimonio di tutta la famiglia spirituale. Continua.